Sarà la Corte dei Conti ad occuparsi dell'ultima vergogna della giunta lenta. Durante l'approvazione del cura Abruzzo hanno inserito un articolo che io chiamo il condono tompale che ha dato richieste per 162 milioni di richieste transattive. Gran parte viene dal mondo della sanità privata ma non solo. È uno scandalo. Mentre i lavoratori attendono la cassa integrazione, mentre le tante micro e piccole imprese attendono bandi, risorse, misure per ripartire e rilanciare l'economia, approvano una norma per consentire richieste transattive per 162 milioni. Noi abbiamo voluto accedere agli atti, abbiamo scovato questa purtroppo tristissima verità e andremo fino in fondo battagliando e rivolgendoci ad ogni organo di garanzia. Scriveremo anche alla Corte dei Conti perché questa vergogna non si trasferisca sulle tasche dei cittadini e delle persone. Battaglieremo fino in fondo.